Buonasera a tutti e benvenuti allo Sherwood Festival. Questa sera presentiamo il filo di canapa, la copianta del futuro. Un esauriente manuale d'uso sulla canapa che ne racconta la storia di origini antichissime e fa anche il punto su quella che è la legge attuale in Italia a riguardo. È con noi l'autrice Chiara Spadaro, una giornalista ambientale che collabora con Altra Economia e sempre per Altra Economia edizioni, ha scritto Il frutto ritrovato nel 2010, Adesso pasta nel 2011, Piccolo e meglio nel 2012 e Vademecum per la biodiversità nel 2013. Io volevo cominciare questa presentazione chiedendo a Chiara se riuscivi a fare un attimino il punto su quella che è la pianta, la canapa, quelle che sono le differenze tra la cannabis attiva e la cannabis sindica e a raccontare un pochino appunto qual è la storia di questa pianta e come si è radicata anche nella nostra cultura qui in Italia. Buonasera a tutti e grazie della partecipazione, grazie a Susanna. Allora, intanto inizio dicendo solo due parole sulla casa editrice che ha pubblicato questo piccolo libro, che è appunto Altra Economia, è una casa editrice indipendente con sede a Milano ed è una cooperativa editoriale, non riceve alcun finanziamento pubblico, ha circa 500 soci che sostengono la cooperativa, è una redazione molto piccola e tra i progetti di Altra Economia c'è questa collana editoriale che si chiama Io lo so fare e l'obiettivo diciamo è quello di dare ai lettori degli strumenti utili per approfondire un tema e anche iniziare a far parte di un cambiamento verso un'altra economia. Abbiamo iniziato a guardare la canapa con interesse circa un anno e mezzo fa, quando praticamente mi sono trovata a scrivere il libro proprio durante l'incontro internazionale sul clima COP21 a Parigi. Infatti quello che abbiamo fatto nel guardare la canapa, studiare, approfondire e poi raccontare anche questo tema era proprio di iniziare ad avvicinarsi da un punto di vista ambientale, non a caso noi l'abbiamo chiamata l'ecopianta del futuro perché ci sembra che possa essere una alternativa molto interessante da un punto di vista ambientale anche per l'Italia, che comunque ha una memoria storica molto legata alla canapa, della quale spesso ci stiamo dimenticando. Per iniziare un po' proprio dalla storia di questa pianta, la canapa è originaria dell'Asia centrale, però poi si è diffusa in tutti i paesi e è stata classificata dall'Inneo nel 1750 circa e l'Inneo classificò una varietà della cannabis che è la cannabis sativa, che è appunto quella di cui parliamo in questo libro. Successivamente la Mark e altri ricercatori hanno classificato altre due varietà che sono la cannabis indica e la cannabis ruderalis. La cannabis sativa è la specie che cresce più alta, alcune varietà arrivano fino a 5-6 metri, è una pianta con un ciclo di vita molto breve, in 4 mesi la si semina e la si raccoglie e è perfetta per l'agricoltura biologica perché appunto crescendo molto alta tiene anche naturalmente a bada le erbacce, non ha bisogno di aiutanti chimici o altre sostanze, si aiuta naturalmente da sola. E uno degli aspetti più interessanti della canapa è che è una pianta che funziona come una spugna e quindi assorbe gli inquinanti dei terreni dove viene coltivata. La canapa che è legale coltivare in Italia è quella con un THC inferiore al 0,2% e qua già iniziamo a fare delle distinzioni rispetto invece sia alle altre specie come appunto la cannabis indica che sviluppa il THC a livelli molto superiori ma anche i diversi usi che possiamo fare di questa pianta. Quindi se parliamo di tutti gli usi industriali per cui dall'uso alimentare, tessile, e poi vediamo che questi sono tantissimi, stiamo parlando della cannabis sativa entro lo 0,2% di THC che è un limite che è uguale per tutta l'Europa. La cannabis a uso terapeutico che è un altro tema altrettanto interessante e vasto e invece la cannabis per uso ricreativo alla quale poi arriviamo hanno dei livelli di THC ovviamente superiori. Il tema proprio del contenuto della sostanza psicotropa è quello che diciamo ha portato a una discriminazione di questa pianta, facendo anche confusione rispetto alle diverse varietà e diversi usi. Possiamo dire che tutto è partito nel 1937 o comunque intorno a quegli anni quando Roosevelt firmò il Marihuana Tax Act un decreto degli Stati Uniti con cui si negava la coltivazione di qualunque tipo di marijuana. Questo appunto da lì iniziò la guerra alla droga e questo portò poi a un proibizionismo diffuso in tantissimi paesi che arrivò fino a noi. L'Italia era in realtà un produttore molto importante di canapa era il secondo produttore mondiale dopo la Russia fino agli anni 40 e allora se ne coltivavano circa 90.000 ettari solamente in Italia che è circa la produzione mondiale attuale. Questo anche ci dimostra che di fatto il proibizionismo ha avuto degli effetti consistenti anche nel ridurre la coltivazione di questa pianta insieme ad altri fattori ovviamente. Per darvi un'idea, fino agli anni 40 quindi in Italia 90.000 ettari oggi 2016 in Italia ne coltiviamo 3.000 ettari. Il tema non è solamente quello di una pianta che è stata negata per i livelli di THC, CBD e sostanze psicoattive ma anche c'è un altro tema molto interessante che spesso viene sottovalutato che forse anche a noi qui nella foresta di cervo di interesse ancora di più che è proprio il fatto che la canapa potrebbe sostituire benissimo tutti i derivati del petrolio quindi rappresenta un'alternativa vegetale a tanti derivati del petrolio. E fu proprio a partire dagli anni 40 che si affacciarono sul mercato delle ditte che portarono avanti degli interessi molto più rispondenti alla grande industria e introdussero delle fibre poco amiche dell'ambiente ma molto più rispondenti alle grandi produzioni delle multinazionali soprattutto per il settore tessile e poi anche delle plastiche. Per esempio si introdusse il cotone che spesso non lo si dice però è una fibra molto impattante da un punto di vista ambientale perché consuma tantissima acqua e richiede una disponibilità d'acqua altissima e soprattutto assorbe tantissimi pesticidi. Circa l'80% dei pesticidi usati al mondo per le piante tessili sono assorbite dalle coltivazioni del cotone. Un'altra fibra che si iniziò ad utilizzare a partire da quegli anni fu il nylon, quindi una fibra di origine sintetica e si andò un po' alla volta ad abbandonare invece la coltivazione della canapa che appunto da un punto di vista tessile era in Italia assolutamente pregiata e rinomata. Questo perché si aveva avuto un grande impulso dell'uso della canapa tessile a partire dalle repubbliche marinare quando ci si rese conto che questa fibra era davvero resistente e molto elastica e perfetta per tutti gli usi in mare per cui tra l'altro proprio a partire da Venezia quindi siamo nel territorio anche di inizio della canapa in Italia si utilizzava la fibra di canapa per le tele delle navi per le reti da pesca e anche le stesse carte geografiche che guidavano quelle navi erano disegnate su carta di canapa che è uno degli altri usi di questa fibra. Per cui con l'inizio insomma di queste nuove fibre tessili si andò ad abbandonare quella che era una filiera era molto difficile da portare avanti perché la canapa tessile va fatta macerare in acqua circa dieci giorni era un lavoro che svolgevano soprattutto le donne quindi lavorando con le gambe in acqua era un lavoro molto oneroso e per cui il fatto anche che fosse tutta una lavorazione manuale portò all'abbandono di questa coltivazione. Oggi appunto siamo arrivati ad avere di nuovo circa 3.000 ettari dopo che si era arrivati quasi a uno zero di coltivazione in Italia a un punto zero 3.000 ettari sono molto pochi rispetto a quello che si stava coltivando una volta però c'è da dire che sono circa l'aumento delle aziende agricole che coltivano canapa tra il 2014 e il 2016 è stato del 150% quindi un altro dato che ci dice che c'è un nuovo interesse attorno a questa coltivazione tante aziende stanno ricominciando a conoscerne la storia a provare a seminarla e a portare avanti una nuova filiera che poi magari vediamo a tutti i limiti purtroppo ancora oggi Certo, possiamo dire quindi che la canapa in realtà comunque sta cominciando a riscattarsi anche qui in Italia e questi 3.000 ettari coltivati quindi per cosa sono coltivati? Quali sono gli usi che ad ora si fanno della canapa in Italia? Come si fa a cominciare a coltivare la canapa in Italia? Perché lo si fa? Allora, gli ettari coltivati oggi sono quasi tutti ad uso alimentare quindi la filiera tessile si è completamente persa questo perché fare canapa alimentare è molto più facile si raccoglie il seme abbastanza facilmente utilizzando le trebbie che si usano anche in cerealicoltura mentre invece la canapa tessile appunto richiede una trasformazione diversa quindi tanto per capirci nel caso della canapa alimentare stiamo parlando del seme che si utilizza o intero, decorticato si può ricavare l'olio, la farina, altri derivati nel caso della canapa tessile parliamo invece dello stelo quindi la parte più legnosa la lavorazione dello stelo può essere fatta solo in centri di trasformazione idonei e a oggi ce ne sono solo due in Italia uno a nord ovest, in provincia di Torino, a Carmagnola dove ha sede a suo canapa e un altro si trova in Salento e ha di una ditta che si chiama South Amp Tecno che è comunque sempre legata ad a suo canapa e quindi si stima che se la coltivazione della canapa tessile viene fatta oltre 300 km da dove viene poi trasformata la fibra questa filiera è diseconomica per cui immaginatevi oggi che ci sono solo questi due centri di trasformazione così distanti tra loro ai due poli dell'Italia sicuramente fare canapa tessile in Italia è molto complicato restano degli artigiani bravi che comunque tessano la fibra di canapa però molto spesso stiamo parlando di una fibra importata dall'estero e poi lavorata qui invece appunto quasi tutta la canapa coltivata oggi da noi è canapa per uso alimentare il seme di canapa è interessantissimo da un punto di vista nutrizionale è un seme privo di glutine ricco di proteine e che contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali utili per l'organismo e tra l'altro ha un bilanciamento di omega 6 e di omega 3 quindi tutti gli omega di cui sempre sentiamo parlare buoni per la salute dal pesce, le alghe eccetera sono contenuti nel seme di canapa in un equilibrio in un bilanciamento perfetto stiamo parlando di cannabis sativa che è appunto quella che è legale coltivare in Italia sono una trentina di varietà iscritte nel registro europeo delle sementi alcune a seconda dell'uso sono più idonee quindi ce ne sono alcune per l'uso testile altre per l'uso alimentare e questa è tutta cannabis sativa quella di cui parliamo nella famiglia dei sativi ci sono trenta specie? sì ci sono no, non ci sono solo trenta specie ci sono trenta specie iscritte al registro europeo delle sementi tra quelle che è legale coltivare ce ne sono molte di più di specie in realtà sì, però sempre le formiglie dei sottili sì e appunto chi volesse iniziare a coltivare canapa diciamo che c'è ancora questa particolarità del fatto che la canapa è una pianta comunque che ha un controllo delle forze dell'ordine quindi a differenza di tutte le altre coltivazioni che possiamo portare avanti in questo caso entro trenta giorni dalla semina bisogna fare una comunicazione alle forze dell'ordine e portare il cartellino che ne attesta la filiera quindi un documento dove è scritto dove è stato acquistato il seme e che diciamo rende tracciabile quel seme e verranno fatte delle campionature per verificare che di fatto il THC di quel campo sia inferiore allo 0,2% quindi diciamo c'è un controllo ancora delle forze dell'ordine il seme è appunto un seme molto oleoso quindi prima di poterne ricavare la farina va estratto l'olio si estrae un olio che appunto si può utilizzare in cucina o anche utilizzato in cosmesi e invece il seme si può utilizzare decorticato intero o dal seme ricavare la farina che poi non so se qualcuno di voi magari l'ha già provato in cucina però se ci fate caso non esistono delle preparazioni 100% con farina di canapa perché appunto essendo priva di glutine è una farina molto difficile da lavorare e quindi va sempre abbinata a qualche altro grano grano tenero o grano duro a seconda dell'uso circa stiamo parlando del 15-20% di farina di canapa per esempio se comprate un pacco di pasta di canapa vedrete che più o meno la percentuale è quella lì poi appunto per ogni uso nel libro proviamo anche a raccogliere delle storie di chi porta avanti questo lavoro diciamo ci racconta insomma un po' delle esperienze sul campo e un altro degli usi più interessanti secondo me è quello in edilizia perché appunto in questo caso si utilizza ancora un'altra parte dello stelo che si chiama canapulo che è la parte più linea e si vanno a creare dei mattoni di calce e canapa con la quale si costruiscono delle case per esempio ho visitato dei cantieri in Emilia Romagna dove nella zona colpita dal terremoto si stanno ricostruendo delle case in calce e canapa e in queste abitazioni si stima che il risparmio energetico sia di circa il 75% rispetto a una casa in muratura quindi diciamo un interesse ambientale ancora una volta confermato e senza considerare che sarebbe una casa di fatto compostabile quindi nel momento in cui si volesse demolire appunto anche lo smaltimento di una casa di calce e canapa risulta molto più semplice e poco impattante e tra gli altri usi di cui parliamo c'è la cosmesi appunto la canapa viene utilizzata come componente di alcuni prodotti di cosmesi naturale perché appunto ha delle proprietà antiossidanti che sono benefiche in ambito cosmetico e poi si arriva a degli usi invece più innovativi nei quali l'Italia è ancora oggi abbastanza indietro diciamo però che si stanno affacciando sul mercato per cui entriamo in tutta quella sfera di bioplastiche che potrebbero appunto sostituire tutta una serie di derivati del petrolio e per esempio in realtà anche qui basta che guardiamo un po' la storia del nostro paese nel senso che erano ancora negli anni 50 Henry Ford aveva costruito una macchina interamente in canapa si chiamava Amp Body Car era una macchina assolutamente resistente ed elastica tanto che per dimostrarlo fecero un video in cui la prendono a martellate che si trova anche in rete se cercate proprio per far vedere quanto elastica era questa fibra quel progetto poi non andò avanti però oggi c'è una ditta statunitense che crea macchine interamente in canapa si chiama Kestrel e anche altre ditte automobilistiche stanno facendo degli interni in canapa oppure anche costruendo dei laminati con bioplastica a base di canapa in Sicilia per esempio c'è una start up che si chiama Canesis che ha iniziato a lavorare sulla stampa 3D con filamenti di canapa provando quindi a sostituire dei polimeri che sono molto spesso di origine chimica con un materiale completamente naturale e biodegradabile Diciamo che il polo storico per la coltivazione della canapa era proprio Bologna e l'Emilia Romagna in generale e adesso in quella regione non ha più il primato italiano ce ne sono altre che sono andate avanti meglio per esempio il Piemonte anche un po' per la presenza della sede centrale di Asso Canapa di cui magari poi parliamo la Puglia anche anche in Veneto c'è una buona filiera di canapa l'Emilia Romagna resta comunque una delle regioni produttive non funziona il microfono ma penso che si senta ecco adesso funziona di nuovo quindi diciamo che non c'è di fatto un primato ancora dell'Emilia Romagna come era una volta però resta una produzione anche lì poi un altro dato per esempio è che il sindaco di Ferrara è stato il secondo sindaco firmatario della proposta di legge per la legalizzazione dopo il sindaco di Parma per esempio se vogliamo guardare a tutto un altro tema che riguarda la canapa quindi forse qualche traccia resta anche in queste azioni in qualche modo tanto nella zona di Rovigo soprattutto nella zona di Rovigo anche nella zona Padovana per esempio mi dicevano che a Baone c'era una storica zona dove si faceva macerare la canapa che adesso è stata recuperata e è stato fatto un museo quindi sempre in provincia di Padova Io volevo chiederti un'altra particolarità diciamo che è quella della canapa ad uso medico che quindi non riguarda la canapa con un THC inferiore allo 0,2% in Italia è possibile richiedere la cannabis per uso medico però è ancora molto difficile riuscire ad ottenerla in realtà Sì, allora dal 1997 è legale in Italia l'uso di farmaci a base di cannabis di fatto tutti i medici potrebbero prescriverli e i pazienti farne uso se non fosse che anche su questo c'è molta disinformazione soprattutto anche da parte proprio delle figure mediche Allora, questa normativa sta cambiando abbastanza rapidamente nel senso che intanto le terapie per le quali si è proprio verificato scientificamente l'efficacia dei farmaci a base di cannabis sono numerose soprattutto le malattie degenerative come la sclerosi multipla alcuni tipi di cancro e alcune per esempio patologie che portano all'inappetenza il senso di nausea, di vomito quindi un aiutante per esempio nella terapia dell'AIDS insomma a diversi usi in realtà nel dicembre 2015 il ministro Lorenzin ha emanato un decreto con cui andava a normare nuovamente tutta la disciplina medica attorno alla canapa e a ridurre di molto le terapie per le quali è possibile fare un uso legale di farmaci a base di cannabis e questo ha sollevato anche numerose proteste e contemporaneamente si andava a normare l'uso della prima produzione italiana di cannabis terapeutica perché al momento i farmaci a base di cannabis sono importati dall'Olanda da una ditta che si chiama Bedrocan che è anche il nome del farmaco principale che diffonde questa ditta che sono dei farmaci legali per l'Italia però diciamo molto onerosi per i pazienti quindi è stata avviata nel 2015 una produzione italiana di cannabis terapeutica nell'unico luogo che era ritenuto abbastanza sicuro per poter avviare questa sperimentazione che è l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze quindi ancora una volta una produzione che viene controllata molto dalle forze dell'ordine e questa produzione dovrebbe essere disponibile a brevissimo perché si parlava del primo semestre del 2016 e se non altro aiuterebbe i pazienti a ridurre di molto le spese per poter avere delle terapie a base di cannabis i farmaci importati attualmente si assumono sotto forma di tisane oppure per inalazione e la produzione italiana in realtà è stimata per rispondere alle esigenze di circa 3.000 pazienti che sono pochissimi di fatto in tutta l'Italia però appunto avendo il governo comunque normato la disciplina per un numero ridotto di patologie e anche sottolineando il fatto questo stavo dimenticando scusate che il decreto del ministro Lorenzin dice che l'uso di farmaci a base di cannabis è possibile solo nel momento in cui è una soluzione secondaria quindi nel momento in cui le altre terapie hanno fallito si può utilizzare farmaci a base di cannabis per cui anche da parte del governo c'è una normativa abbastanza restringente in questo momento e che va anche in contraddizione di fatto con invece l'idea di avviare una produzione italiana di questo farmaco anche in Italia però possiamo dire che qualcosa si muove da questo punto di vista per fortuna infatti Benedetto della Vedova assieme a un gruppo di parlamentari ha creato questa proposta di legge ad hoc che verrà discussa il 25 luglio in Parlamento e nella quale poi si parlerà anche di cannabis medica ma non solo alla luce della versatilità della pianta delle esperienze che ci sono state in Uruguay negli Stati Uniti che complessivamente si possono dire positive viene da chiedersi più che perché legalizzare in Italia quando legalizzare in Italia riesce a raccontarci un pochino quali sarebbero i cambiamenti promossi da questo gruppo parlamentare cosa cambierebbe per i consumatori anche per l'uso personale appunto il tema della legalizzazione è tutto un altro aspetto di cui noi ci occupiamo marginalmente nel libro perché ci piace pensare alla canapa come a una pianta che comunque può avere tantissimi altri usi di cui ancora si conosce molto poco mentre invece l'uso ricreativo è molto diffuso per cui però come dire se si fa un discorso attorno alla pianta della canapa è impossibile prescindere anche dall'uso ricreativo per cui in parte ce ne occupiamo e soprattutto stasera è anche importante occuparsene perché è di ieri la notizia che il 25 luglio la Camera discuterà il DDL sulla legalizzazione della cannabis dunque volevo partire dal darvi qualche dato su quello che è oggi il consumo di cannabis in Italia tra l'altro trovate un articolo su Internazionale che è davvero fa un punto molto preciso e puntuale su tutti questi aspetti vi consiglio di leggerlo è uscito tre giorni fa circa allora in Italia si stima che i consumatori siano 4 milioni circa il 10% della popolazione tra i 15 e i 64 anni e questo consumo si stima che copra circa il 38% del mercato illegale delle droghe in Italia quindi questo dato fa dell'Italia il secondo mercato europeo dopo la Spagna per cui diciamo che sono dati che ci evidenziano il fatto che c'è un consumo molto elevato tra diverse fasce d'età nel nostro paese e al momento sapete che con l'abrogazione della Fini Giovanardi che equiparava le droghe leggere alle droghe pesanti si è tornati con un decreto del ministero alla legge Iervolino Vassallo che era una legge degli anni 90 che regolava questa normativa prima della Fini Giovanardi e che prevede intanto distingue tra le droghe leggere e le droghe pesanti riportando la cannabis tra le droghe leggere e la quantità per uso personale che è possibile detenere diciamo senza essere ritenuti senza entrare nello spaccio è di 5 grammi e sono previste delle sanzioni amministrative e la pena per gli spacciatori va dai 6 mesi ai 4 anni quindi è una normativa anche molto diciamo che lascia molte lacune sulla quale è difficile avere delle risposte precise si stima che il mercato della cannabis illegale possa se rintrodotto diciamo sotto la sfera dello Stato possa portare a un diciamo il suo valore è di circa stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di euro quindi un valore ingente che andrebbe a pesare sul PIL italiano circa l'1,2% del PIL quindi un'economia importante e un dato che ha portato la stessa direzione nazionale antimafia a dire che appunto si auspica una legalizzazione della cannabis in Italia anche perché questo garantirebbe ai consumatori un prodotto di fatto tracciato molto più sicuro e del quale si sa la provenienza oltre appunto a un risvolto economico anche importante quindi la proposta di legge che si va a discutere il 25 luglio in Parlamento prevede appunto la legalizzazione e la possibilità di avere 5 grammi per uso personale all'esterno diciamo all'esterno e fino a 15 in casa prende a modello il sistema dei cannabis social club che c'è già in Spagna quindi l'idea di alcuni collettivi fino a un massimo di 50 soci dove sia possibile coltivare fino a 5 piante di canapa per uso ricreativo a testa senza però che sia possibile la vendita di questo materiale quindi solo per un consumo personale o comunque collettivo senza vendita appunto il disegno di legge va anche a lavorare sull'uso terapeutico per fare in modo che l'accessibilità della cannabis terapeutica possa aumentare e sia garantito a tutti i pazienti questa possibilità e un altro elemento che aggiunge il disegno di legge è che il 5% dei ricavi di questo mercato che appunto rientrerebbe quindi nelle mani dello Stato vada alla direzione nazionale che gestisce le politiche antidroga in Italia e in realtà a fianco a questa proposta che si andrà a discutere è stata fatta a partire dall'aprile di quest'anno anche una proposta di legge di iniziativa popolare per la quale si stanno raccogliendo delle firme che parte diciamo da un movimento dal basso diffuso in tutta Italia che vuole andare ancora ad affinare quella che è la proposta parlamentare per cui questi due modelli si intersecano cercando di proporre una soluzione il più possibile adeguata anche per un paese che di fatto è rimasto molto indietro sul tema della legalizzazione il 25 luglio si discute e successivamente ci sarà il voto uno dei dati interessanti è che il disegno di legge è sostenuto da 220 parlamentari quindi diciamo un gruppo un intergruppo che si chiama appunto intergruppo cannabis legale abbastanza numeroso bipartisan e che comunque ha portato avanti questa proposta che arriva finalmente a una discussione in realtà oggi ci sono due disegni di legge in Parlamento in discussione sulla cannabis questo sulla legalizzazione uno ce n'è anche un altro che ha già un iter un po' più avanzato e riguarda invece gli incentivi alla filiera quindi stiamo parlando della cannabis per uso industriale la cannabis alimentare testile per gli altri usi che abbiamo visto e la proposta di legge sostiene di creare almeno un centro di trasformazione per la cannapatessile in ogni regione in modo da poter comunque dare degli incentivi in più per poter coltivare questa pianta diffusamente nel nostro paese insieme anche a degli incentivi agli agricoltori grazie mille Chiara adesso volevo chiedere al pubblico se c'erano altre domande allora io volevo chiederti dopo che praticamente hai fatto tutto hai spiegato come mai la cannaba insomma non prende piede in Italia nei vari settori e così via due domande i centri di trasformazione sono solo due per un discorso economico cioè che costano o per un discorso di permessi e la seconda cioè dal mio punto di vista penso che la cannaba in edilizia sia la cosa più semplice da usare e quindi mi chiedevo come mai non prende tanto piede sia un discorso culturale più che altro di disinformazione insomma allora sicuramente i centri di trasformazione richiedono un impegno economico ingentissimo diciamo e questo è il primo fattore che li scoraggia nella costruzione però anche il fatto probabilmente che manca una tecnologia di fatto quindi per esempio l'impianto che è stato fatto in Salento quindi il secondo italiano è stato fatto importando dei macchinari dalla Francia questo perché l'Italia ha perso proprio le strumentazioni di anzi di fatto è una tecnologia che forse non ce n'è anche mai stata perché la lavorazione prima era fatta manualmente per cui manca anche un po' un fattore tecnologico che possa poi sostenere questo tipo di impianti oltre anche a un fattore economico è interessante notare che i due centri di trasformazione in Italia sono tutti e due di Asso Canapa di fatto se consideriamo che anche Southampe Tecno è una ditta che è nata su spinta di Asso Canapa e questo ci permette un po' di parlare delle associazioni che lavorano sulla canapa in Italia che è un altro dei temi che affrontiamo nel libro e Asso Canapa è una ditta no scusate è anche una ditta ma in realtà è nata come associazione nel 1998 per incentivare la canapicoltura in Italia a Torino appunto a Carmagnola e è stata un'associazione capace di radicarsi benissimo sui territori tanto da avere oggi delle sedi in tutte le regioni italiane e anche il pregio diciamo di essere sostenuta da un team di avvocati che comunque ha sempre garantito anche una consulenza legale a chi andava a coltivare canapa senza magari conoscere bene poi tutti gli aspetti quindi questi sono dei meriti che secondo me vanno riconosciuti ad Asso Canapa di fatto è anche c'è anche un altro lato della medaglia che è il fatto che Asso Canapa ha creato una SRL quindi una ditta commerciale che oggi lavora di fatto come una ditta sementiera per cui quasi tutta la canapa coltivata in Italia viene procurata il seme viene procurato da Asso Canapa e viene dato agli agricoltori che dopo rivenderanno quel seme ad Asso Canapa a un prezzo non sempre equo diciamo così e quindi penso che questi aspetti siano comunque tutti da considerare se iniziamo a informarci di canapa soprattutto il tema della semente è un tema interessante da affrontare perché se pensiamo che parlando di sovranità alimentare il seme è praticamente il cuore di tutto il tema e tra l'altro domenica ci sarà un altro dibattito dove lo affronteremo molto meglio il seme della canapa non è possibile non si può riseminare di anno in anno quindi non è possibile un'autoproduzione del seme di canapa nella piccola azienda è possibile riprodurre la semente in ditte controllate e in un arco di circa 5 anni questo perché il seme non è stabile e il THC rischia di aumentare quindi gli agricoltori devono comunque riacquistare il seme anno dopo anno appunto Asso Canapa è una delle ditte che fornisce la semente anche se oggi in Italia c'è molta poca disponibilità di seme e tanto viene importato da per esempio l'Olanda la Germania alcuni paesi europei che hanno investito di più in questa filiera anche la Francia e l'altra domanda era sull'edilizia e allora beh in realtà l'Italia sta portando avanti le sperimentazioni in calce e canapa o comunque quindi in materiali ecocompatibili con la canapa grazie a una partecipazione ad alcuni progetti di ricerca europei quindi tramite un'associazione che va bene dopo la cerchiamo perché adesso me la sto dimenticando comunque è l'associazione italiana che si occupa dell'architettura bioecologica che appunto è entrata a far parte di una rete europea di progetti sul costruire ecologico e sperimentando la canapa uno di questi progetti si chiama Canapalea quindi questo ci dice che purtroppo ancora in Italia un lavoro di questo tipo non sarebbe possibile se non in una rete europea che sta guardando grazie a dei paesi che stanno lavorando meglio su questa filiera anche all'uso nell'abitare insomma recentemente negli ultimi anni si è parlato di più di case ecologiche soprattutto per quanto riguarda per esempio le case in paglia e ancora della canapa si parla molto poco e probabilmente questo tema oltre anche a una mancanza di ricerca in Italia è anche legato al fatto che manca una filiera italiana solida e quindi queste due cose vanno insieme insomma ci sono altre domande? a posto così allora ringrazio moltissimo Chiara Spadaro l'ultima cosa che volevo dirvi è che questa presentazione si colloca all'interno della tre giorni del festival di Fermenti quindi volevo un pochino insomma dirvi quali sono i prossimi appuntamenti già stasera nello stand di Fermenti sarà possibile fare una degustazione di birre belga domani domani nello stand di Fermenti ci sarà la degustazione di cinque birre in stile americano oltre a diversi concerti in second stage domenica invece dalle 18 alle 22 ci sarà il mercato di genuino clandestino veneto e il mercatino dell'usato anticrisi qui sempre nella foresta di Sherwood e dalle 18 e 30 alle 22 e 30 fermenti sonori nello stand di Fermenti invece sempre domenica ci sarà la cotta pubblica quindi verrà spiegato un pochino come fare la birra in casa e verrà illustrata la ricetta della nostra Sherwood Ipa quella che è stata creata apposta per noi e alle 20 e 30 qui a Sherwood Books e Media ci sarà il dibattito inevitabili come semi a cui prima faceva riferimento Chiara grazie ancora tantissimo di essere stati qua e buona serata a tutti